Attenzione Renzi Assolutamente Certo che ce n'è di modi diversi anche per divertirsi Potrebbe giocare a bowling, uscire con la fidanzata Invece guardate cosa fa Guardate cosa fa Questi sono i potenti mezzi messi a disposizione dalla Rai Ti sfianca Ti sfianca A voi la linea Grande suggerimento in provvedimento Che sta facendo una corsa Che a Bretti non andare a disturbare Voglio stare vicino Voglio chiedere da che parte la tira Da che parte la tirerai Alonso Destra Ah ma lo tira Cote Tira Alonso Vediamo se è vero Ha detto che la tira a destra Ok Questo è il vero 3D Eccezionale A te la linea Avrebbe fatto meno fatica a giocare Alonso contro Lentini Se non esci ti squalificano A vita Per fortuna l'arbitro non ha superpotere Che a Bretti devi uscire Mezzo cucchiaio addirittura Alonso Che salta le trance фильм Quai Radio Lehto Eccents Per fortuna ieve C停 Eccents Ma La La Ma Ma Ma